l'its academy meccatronico veneto cresce e qui al marconi da ottobre aprirà una nuova un nuovo corso una nuova sezione di cosa si tratta e quali sono i temi che affronteranno i ragazzi e su cui saranno formati beh verona è una città è una zona diciamo dal punto di vista industriale che richiede molti tecnici nell'ambito dell'automazione avanzata 4.0 e di tutte quelle che sono le competenze che sono innovative rispetto alle produzioni industriali qui a verona proprio per questo motivo oltre al corso che già c'è di automazione sistemi meccatronici raddoppieremo con un nuovo corso che si svolgerà come sede principale presso l'itis marconi e quindi si occuperà e formerà dei tecnici superiori quindi diplomi ts quinto livello quinto livello qf quindi della scala europea dei diplomi e che appunto andranno in aziende della zona per come tecnici specializzati tecnici superiori nell'ambito dell'automazione avanzata si diceva il percorso its che è un percorso magari nuovo diverso da quello dell'università più conosciuto sta crescendo anche questo in importanza e non è inferiore è un percorso diverso noi e l'università facciamo un mestiere diverso l'università assolutamente da una preparazione completa da un punto di vista avanzato teorico noi diamo una formazione molto più indirizzata a quello che è l'applicazione pratica ossia facciamo anche noi una parte di teoria ma quella che è necessaria per andare a formare questi tecnici superiori che poi andranno a invece metterla in pratica direttamente sulle apparecchiature e sui macchinari. Importante il ruolo degli ITS per un collegamento fra l'istruzione e il mondo del lavoro quali sono le necessità delle aziende? Diciamo che la base e il futuro delle aziende oramai parte dalle nuove generazioni italiane per tanti temi che in Confindustria viviamo e discutiamo ogni giorno se solo citiamo transizione 4.0 e 5.0 il made in Italy il digitale sono tutti trend tecnologici che però partono dalla know-how che noi riusciamo a creare nei giovani e per Confindustria anche la nuova presidenza di Confindustria quindi il rapporto e la promozione dell'attività degli ITS se sarà ancora e sempre più fondamentale per rafforzare non solo il made in Italy ma anche tutta quella cultura e quei cervelli che abbiamo in Italia e che se non vogliamo farci riscappare all'estero prima dobbiamo formarli adeguatamente qua in Italia e poi dovremo fare di tutto per mantenerli nelle aziende in tutte le aziende che partecipano a queste iniziative in bocca al lupo a tu. Lei è stato studente di un istituto tecnico come questo che consiglio si sente di dare ai ragazzi che si affacciano al proprio futuro? Il consiglio che do a questi ragazzi è di continuare a studiare fare questo tipo di percorso di ITS che completa un pezzo che manca alle scuole superiori. Come dicevo anche poc'anzi non si è pronti subito nel mondo del lavoro. A 19 anni mancano delle competenze, manca anche magari un approccio proprio all'attività lavorativa e credo che questi due percorsi che si mescolano assieme nei due anni di ITS possano completare la formazione di questi giovani ragazzi per essere realmente pronti nel momento in cui iniziano. Ecco le aziende, oramai insomma cominciano a esserci degli studenti che arrivano da questi ITS, quali sono le figure che cercate e le caratteristiche che devono avere? Beh qui stiamo parlando di ITS meccatronico, le aziende alimentari ormai fanno parte della grande manifattura italiana che è un elemento di cui dobbiamo essere orgogliosi. Siamo un paese manifatturiero, siamo uno dei leader mondiali in questo settore, siamo all'avanguardia per tecnologie anche nel mondo alimentare, anche questo è il nostro caso e quindi abbiamo bisogno di avere tecnici preparati che ci aiutino a guidare le nostre aziende verso il futuro e questa è una grandissima occasione perché con il percorso ITS possono da un lato apprendere competenze tecniche e poi vederle immediatamente applicate grazie al fatto che fanno metà della loro parte nella scuola e metà invece nella loro parte direttamente in azienda. Si faceva prima una battuta, cosa c'entra la meccatronica con le aziende agroalimentari? Cosa c'entra? Beh direi c'entra sempre di più perché anche l'industria alimentare ha raggiunto livelli di automazione, di digitalizzazione dei processi e di robotizzazione elevatissimi, quindi rappresenta un'opportunità di impiego anche proprio per il numero di addetti che occupa in Italia e nel territorio veronese rappresenta una grandissima opportunità per chi ha questo tipo di passione e ha queste competenze. Lei direttore di risorse umane quindi insomma le vede tutti i candidati, quali sono le caratteristiche sia di formazione sia umane, quelle famose skill laterali di cui c'è bisogno nelle aziende del territorio veronese? Sì le competenze tecniche sono sempre più importanti quindi lavorare e prepararsi da un punto di vista di competenza tecnica è determinante. Questo corso su cui investiamo da qualche anno ormai in termini di collaborazione fornisce proprio queste competenze hard tecniche che sono una base necessaria. Le altre competenze di cui si parla molto che sono le competenze trasversali hanno a che fare con tutto quello che riguarda ad esempio il lavoro in squadra, il lavoro in team e le progettualità con le quali si sviluppa l'ITS meccatronico Veneto consentono ai ragazzi di allenarle quindi di arrivare sul campo nel mondo del lavoro preparati. Qualche numero sugli studenti a Verona e in Veneto? Allora in Veneto la mia fondazione quindi ITS Academy Meccatronico Veneto aprirà a ottobre 20 corsi per un totale di circa 450 studenti. Attualmente tra primo e secondo anno abbiamo 16 corsi al primo anno e 14 al secondo per cui abbiamo circa 650 studenti. In generale gli ITS in Veneto, e parlo di otto fondazioni che afferiscono ad aree tecnologiche diverse hanno circa un centinaio di corsi con circa 2500 ragazzi.